Ciao ragazzi ben trovati di nuovo sul mio canale Allora ragazzi torniamo anche con Ranch Simulator Abbiamo fatto anche qui un bei tanti aggiornamenti Guardate come è cambiata anche la schermata d'inizio del gioco L'hot game, nuova partita con netti personaggi, opzioni L'hanno un po' personalizzata rispetto a com'era l'altra volta Come ci avevamo lasciati nello scorso episodio di Ranch Simulator ragazzi E' bello tornare perché stavamo anche facendo tante cose anche qui In questa seriona che vi piace questo gioco Avevamo un po' rimesso tutto a nuovo Avevamo fatto il recinto per i cavalli Avevamo acquistato un cavallo Mi sa avevamo acquistato Quindi avevamo già cominciato a costruire qualcosina Quindi ragazzi Detto questo l'hot game Non mi ricordo qual era Ok ragazzi sta caricando E vediamo un po' dove ci avevamo lasciati Cosa bisogna fare Cosa era da fare Qui su Ah ecco qua Sì ci avevamo lasciati qua se non sbaglio Ok Allora Dobbiamo un attimo ricordarci un po' cosa dovevamo fare Ehm Allora Cosa abbiamo fatto Sì abbiamo creato il recinto per il cavallo Eccolo lì il cavallo Ehm Ah dovevamo costruire la stalla Esatto ragazzi Dovevamo costruire la stalla Qua gli alberi stanno ricrescendo Avevamo abbattuto a mezza foresta Per costruire un po' Ehm Tutto la casa E tutto quanto Ma io mi sa che c'è un Mi sa che un po' di tronchi ce l'avevamo Mi sa che gli avevo Ah sì qua avevo combattuto anche il camion Sì Ah eccoli qua Un po' di tronchi lo avevamo L'avevamo sistemati qui nello scorso episodio Ragazzi Per chi si fosse perso Gli altri episodi Sì di questa serie Ma di altre serie ragazzi In alto vi usciranno Ehm Tutto quando quindi Ehm Allora sì Stavamo qui Avevamo anche un po' di sacchi Per le galline Anche sì Perché avevamo anche le galline Avevamo messo Avevamo creato un po' di roba Se non è Se non sbaglio Andiamo a rivedere un po' di roba Che avevamo creato Perché Raga da tanto tempo Che non ci Che non riprendevamo Questa serie di Ranch Simulator Ehm Dobbiamo costruire la stalla Dobbiamo costruire la stalla Perché avevamo in mente Di comprarci Un po' Di mucche Maiali Avevamo No I maiali ce li avevamo presi Mi sa che stavano qui Eccolo qua Questa è la Che avevamo creato noi Nei scorsi episodi Ehm Vedi Il mangime ce l'hanno Ehm Però La porta è chiusa Apri la porta A me non posso andare anche dentro Avevamo fatto una sorta Di una cosa del genere Ehm Poi le galline Ce l'avevamo pure Però Le galline qua Dovevamo Ehm Sistemare Il mangime e l'acqua Vabbè Questa è una cosa Che dovremmo fare poi Ehm Sì Avevamo comprato Questo per trasportare Altre robe Sì Avevamo comprato un po' di roba Qua avevamo progettato Di farci qualcosa Ma non lo so E niente Vabbè ragazzi Allora Banda le ciance Cominciamo a costruire Ehm La nostra stalla Che cosa ci serviva Fammi vedere Assi di legno Solo gli assi di legno Si servono qua Mi sa Assi di legno Vabbè Cominciamo a costruire Gli assi di legno Poi vediamo anche un po' come Il cavallo Come Ehm Cosa dobbiamo fare Con il nostro cavallo Perché Io mi ricordo che Mi sa che doveva essere Tipo galoppato Doveva essere comunque curato Tante cose Quindi Allora Cominciamo A tagliare Le assi di legno Vai vai Non dobbiamo essere Una ruota Eh si raga Torniamo anche un po' Con Ranch Simulator Mancava tantissimo tempo Lo hanno aggiornato A bombazza Quindi Ehm Buonissimo gioco Allora Vai Eh si Però se Daniele Sei un coglione Cosa fai Togli tutto Ok Allora 19 assi di legno Mo Ne faremo un bel po' Ragazzi Così almeno Non facevamo Ogni volta Sotto e sopra Con i tronchi Quindi Ci perdiamo un po' di tempo Tanto la benzina Ce l'abbiamo Non so quanti soldi abbiamo Però Ah 134.000 Sì avevamo fatto Io off camera Ho fatto molta molta Caccia grossa Di orso e di cervo Che paga molta molta carne Ragazzi Quindi calcia di orso E di cervo Paga tantissimo Soprattutto quello di orso Paga da freg Sì mi ce l'ho messo Un paio di orette Ho fatto Sì sì Però mi ricordo Mi ricordo Allora Continuiamo a fare le assi E così Finiamo a costruire Questa stalla Ragazzi Poi vediamo Ehm Vediamo pure un po' Cosa metterci In questa stalla Possiamo Tanto il camion Non l'abbiamo comprato Quindi Ci entrano Mi sa 7-8 maiali Da quello che O no Mucche Mi sa 4 mucche 5 mucche Ci entrano Quindi Poi andremo a vedere Nel negozio Poi andiamo a vedere Poi se hanno aggiunto Qualcosina nuova Al negozio Che hanno fatto Tanti aggiornamenti Vediamo se hanno aggiunto Anche qualcosina Però si sta a fanacerta Già A fanacerta Questo tra poco Non si vede un cazzo Lo abbiamo andato a dormire Quindi Vabbè Andiamo a fare le assi Finché si vede Poi Il cavallo Se si deve mettere a mangiare Il cavallo Sinceramente Questa cosa Non lo so Però Scusa un attimo Io Eh vabbè Dopo raga Andiamo a vedere Perché non lo so Se il cavallo Bisogna mettergli l'acqua O Bisogna mangiare Questa cosa Non lo so Io l'altra volta Non Mi sa che l'avamo visto Ma non me lo ricordo Non me lo ricordo Allora Raga Tanto questo tra poco È not Ah boh Facciamoci un altro uno E ci andiamo a dormire E qua In campagna La notte scende prima Eh quindi Andiamo a dormire Qua freschi freschi Di prima mattina Limpidi Dobbiamo stare Vabbè Intanto La torcia La possiamo accendere Vabbè Io Io raga Direi di fare Almeno un altro uno Ma non so quante assi Ne abbiamo fatti Ma Ce ne stanno un bel po' Quindi Direi che Domani scopriremo Quante ne abbiamo fatte Insomma Ok Io direi Questa è bassa Spegniamo poi La sega E La sega circolare E andiamo A dormire Eh andiamo a dormire No ma sto giovane ragazzo Ok raga Andiamo a dormire Andiamo in casa Però facciamo molto prima Così Ok Costituiamo prima Le basi Ok Perfetto Facciamo prima le basi E poi Cosisce sopra Ovviamente Facciamo questo prima sopra E poi le basi Cioè non mi sembrerebbe il caso Però mi sa che Non ci bastano Le assi ragazzi Mi sa che non ci bastano Eh Dobbiamo tagliare anche Altri alberi E Secondo me Se 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 Secondo me si Perché non Non ci bastano Non ci bastano Perché se Dobbiamo fare tutto Allora però qua Visto che qua Già abbiamo creato Ok 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 Allora Diciamo che stiamo Prendendo forma Però Quante assi ce ne mancano Eh Tio ce ne mancano poche Per fare il primo blocco Poi dobbiamo fare il secondo blocco Che Che lì ragazzi Richiede Richiede tempo Cioè No Richiede altro legno Altre cose Quindi Eh Ma penso che Questi assi di legno Ce la Eh va bene però Cioè ma che siamo Eh oh Eh scusi Mi sa che Questi assi di legno Ce la facciamo A finire il primo La Il primo blocco Di Del Delle cose Dobbiamo vedere Se ce la facciamo A costruire poi Allora Eh Quella ma non me lo prende Allora Qua ne manca Un asso di Un Un asso di legno Non so dove Forse qua Sicuramente Un asso di legno E completiamo Il primo blocco Poi per fare il secondo blocco Ce ne servono Altre 20 Eh raga Qua ci serve La legna A go go Proprio Legna a go go Io direi Allora di portare Un po' di questi assi di legno Cominciamo a Vabbè Si che ce l'abbiamo Comunque Un po' di tronchi Ce l'avevamo Per fortuna io Non butto mai niente Cioè nel senso Facciamo anche altri assi di legno A me finiamo il primo blocco Poi Il fatto che mi sa che ne avevamo messi Più di uno Eh quindi Sono 40 41 assi di legno Ci servono In teoria 41 assi di legno Dobbiamo tagliare tanti Quindi Anche se gli tagli Dopo un po' Totti di oro del gioco Rinascono Quindi questa è una cosa Molto importante Quindi una cosa Molto importante Questa cosa qua Vabbò Finiamoli tutti Si tronchi Raga L'improvviso Oggi lavoro Boscaiolo Costruire Martellare Per costruire la stalla Quindi oggi Tanto lavoro Qui su Ren Simulator Ragazzi Andiamo un po' A sporcarci le mani Nel nostro range Di famiglia Che ci ha lasciato Il nostro nonno Di eredità Vi ricordo Che il nostro nonno La lettera sopra lì Ci l'ha lasciato Nonno si fidava di noi Comunque no Stiamo già portando avanti Meglio di quello Che aveva il nonno Meglio è C'era una cata vecchia Brutta Rotta Distrutta Quindi Diciamo che Stiamo facendo già meglio Di quello che aveva fatto Il nostro nonno Eh Cazzo Comunque Allora Io direi Di spegnerla Perché la benzina Comunque questa La finisce Subito La finisce La benzina La sega circolare Allora spegnila Ok Vabbè Andiamo a fare Sto carico Questo nostro Il nostro ciugno Ragazzo è talmente Forte Che lui non sente Il peso Di quante casse di assi C'ha 7-8 assi in mano Eh Vedete Qua gli alberelli Stanno rinascendo Qua noi avevamo Tagliato tutto Infatti si vede Qua prima era Tutto una foresta Vedi Quindi La cosa positiva È che Che rinasce Almeno c'hai La legna Anche per fare Ok Il primo blocco L'abbiamo completato Vedete Quanto è bello Poi vabbè Qua bisogna Anche installare La porta Poi facciamo tutto Continuiamo a fare Di qua Allora Continuiamo a fare Di qua Ok Ah Facciamo il pilastro A meno Ok Qua ce ne mancano Eh raga Allora Il primo Cosa abbiamo fatto Adesso Eh Dobbiamo man mano Costruire Costruire Altre cose Vabbè Allora Facciamo una cosa Portiamoci Vedete Di tagliare Anche questo albero Qua Vai che casca Vai che casca Boom Piano 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 Ok Ok facciamo Eh quante cazze Me ne fanno Allora facciamo una cosa Prima di tutto Andiamo a prendere La nostra macchina Cominciamo a caricare Un po' di Un po' di legna Un po' di assi di legno Cominciamo a fare tutto Se no Ci mettiamo troppo tempo Boom Ok Mettiamoci qua Raga Allora Apri Ma io voglio fare una cosa Raga scusate Io voglio aprire un attimo Scusi ma Il cavallo No Eh vedi che Vedi che mi dice La barra della sete E della fame Ma non è che devo costruire Un beveratoio Per il cavallo Scusatemi Scusatemi Costruisci Ma non è che devo costruire Un beveratoio Per il cavallo Scusatemi ragazzi Eh vediamo un attimo Eh Intanto sta nevicando Allora Risorse necessarie A beveratoio Non è che devo costruire Questo io Per il cavallo Eh mi sa di si Raga Dobbiamo costruire La mangiatoia E il E il cibo Eh cazzo Allora mo Qua lo facciamo Qua Poi Gli facciamo Una mangiatoia Mangiatoia Tongolo Questo è Mangiatoia Piccola Mangiatoia Abbeveratoio P Abbeveratoio Scusa ma Solo questa Mangiatoia Cioè scusami Ok Io la mettiamo qua Ragazzi Eh che dobbiamo Fa Ok Qui ci vogliono 16 assi di legno E 16 assi di legno Allora raga Facciamo una cosa Stoppiamo un attimo La costruzione Della stalla Perché il cavallo Ha la necessità Ragazzi Il bestiame È la necessità Noi lavoriamo Con il bestiamo Quindi Eh allora Dobbiamo costruire La mangiatoia Abbeveratoio Per il cavallo Perché io Non credo Perché io Non mi ricordavo Che il cavallo Avesse delle Delle esigenze Credevo che Perché non è che C'è tanta riso Cioè nel senso C'era tanta Tanta cosa Per il cavallo Quindi Eh tante cose Scusatemi Per il cavallo Quindi non credevo Che Quindi Macello Raga Allora Facciamo una cosa Andiamo a tagliare Altri alberi E dai Andiamo a tagliare Altri alberi E C'è Prende altri Un po' di tronchi Raga E poi Facciamo La Quella cosa là L'abbeveratorio Ok Mettimelo Gozi Raga Questi Non è niente Sai quante L'altra volta Quanto ne avevamo Caricato Di tronchi Su questa macchina Avevo fatto Quasi la torre di Pisa Avevamo fatto L'altra volta Avevamo fatto Un bel po' Di carico Vabbè Per così Tutto Quella Quella Quelle Cioè Abbiamo costito Tanto Fino adesso Quindi Per fortuna Mai spendere Un Oddio Qualche soldo Lo abbiamo dovuto Spendere Perché A che famo Non me lo metti Più Abbiamo dovuto Spendere Perché Abbiamo dovuto Comprare Il calcestruzzo Assi di metallo Quindi quello Non ce l'avevamo Dovevamo comprare Però Diciamo che Tutto quello Che abbiamo costruito Fino adesso A parte qualcosina È tutto Materia Che abbiamo trovato Grazie alla natura Allora Andiamo A tagliare Le nostre Allora Allora Io però Io vorrei entrare Boom E niente Ragazzi Io adesso Voglio entrarci Così però Ma in tanto Non gli entrano Le marce Sta cazzo Di macchina Ok Ok Allora Accendiamo Ma in tanto Non gli entrano Le marce Allora Quindi ragazzi Una volta Fatto l'abbeveratorio La mangiatoia Per il cavallo Possiamo Continuare La costruzione Della stalla Non so se ci basta La benzina Lo sapete La benzina Mi sa che devo Riempire la tannica Oppure comprare Un po' di tanniche Lasciarle Un po' di serva Un paio pieno Un paio di litri Di benzina Perché ci possiamo servire Sia per le macchine Vedi per le macchine Che ci servono Per Per comunque Far funzionare Cioè per Anche la sega circolare Quindi Potrebbe Questa anche Altri 16 Assi di legno E niente Quindi Fammi vedere un attimo Una cosa Al cavallo Eh vedi Comunque La sete sta scendendo Allora Facciamo una cosa Al volo Facciamo una cosa Al volo La macchia Possiamo lasciarla qua E Andiamo a prendere Un attimo Al volo Una Una cosa del genere Questa cosa qua Ci serve Allora Prendiamo Prima un sacco Eh Dobbiamo fare una cosa Veloce raga Voglio vedere un attimo Se funziona così Se il cavallo Interagisce con Ma penso di si Perché Mangiare per il cavallo Io non l'ho visto Quindi Penso che funziona Con i sacchi Che diamo A tutti gli animali Anche ai maiali Quindi Penso che poi Viamo un po' Ok La mangiatoia C'è E Diciamo va bene Mo L'acqua L'acqua E l'acqua Dobbiamo aspettare Perché dobbiamo fare Altri tronchi Quindi Cominciamo a Continuiamo a tagliare Gli alberi Ragazzi Tagliamo Mettiamoci una macchina Qua Tagliamo questi Che sono più grandi Che ci fanno Un bel po' di Madonna Madonna Stendere Stendere Tronchi Qua Eh vabbò Lasciamo Allora Non fa niente L'abbiamo fatta La frittata E ce la teniamo No L'abbiamo fatta La frittata Con gli asparagi Ce la teniamo Allora Eh Fatta che qua Siamo molto lontani Ancora Di fare Produzioni Ancora Di formaggio Dobbiamo ancora Dobbiamo comprare Ancora un po' Di attrezzatura Perché io poi Però prima di comprare Prima di fare Io ragazzi Avevo detto E anche voi sotto Nei commenti Ma Avete detto È una bella idea Io vorrei Prima sistemare Un po' Tutto il range Ovviamente Costruire tutto Tipo Stiamo costruendo La stalla È ancora Work in progress Però Stiamo costruendo La stalla E io Tipo voglio sistemare Quel magazzino Lì Perché poi Voglio fare Ma scusi Il maiale che vola Lo vedete pure voi Sì Il maiale vola Vabbè Voleva provare a volare Ma ancora Non ha il DNA Non si è evoluto Per poter volare Google stavo dicendo Voglio sistemare Un po' Tutto quando E poi fare una cosa Una volta bene Dove teniamo Perché io Poi quel magazzino lì Che stiamo utilizzando Adesso con la sega circolare La voglio sistemare Ci voglio fare Anche un'altra cosa Voglio costruirci Io un magazzino Dove tenere La teniamo una cosa La ci teniamo il mangiare La Capito Voglio costruire Varie cose E voglio sistemare Le cose già esistenti Quindi Diciamo che c'è ancora Tanto lavoro Tante serione Pazzesche Da poterci divertire Sì però Questa mano Non me la fai mettere Vero? Ecco raga Tagliamo anche pure Questo Questo è bello grosso Eh fa un bel po' Di tronchi Boom Eh raga Continuiamo a mettere Ci servono tanti tronchi Tanti 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 Però Raga mi sa che Dobbiamo andare a fare Prima un viaggio Andando a mettere A caricare la tanica Di benzina Perché Se no Mi sa che tutti Sti tronchi Non li tagliamo Sopra Diciamo che Abbiamo fatto un carico Pazzesco Abbiamo fatto un carico Pazzesco Allora Saliamo Raga andiamo a comprare Andiamoci a caricare Un po' di benzina Andiamo a caricare Un po' di benzina Allora L'uscita è di qua È dato qua A sti polli Ma è morto Oh cazzo È morto il pollo Oh porca miseria Fa il pollo Fa No 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 Vabbò raga Poi le galline Tanto le Le dobbiamo ricomprare Vabbè Le galline poi Devono entrare Tutti là dentro È una cosa Vabbè Non fa niente Abbiamo perso un pollo Non fa niente Allora Mappa Stazioni di servizio Ok Dobbiamo girare qua Poi non so se si potrà Asfaltare un giorno Sta strada Madonna raga Io questa macchina Sembra un Sembra un Sembra una strona Sembra la macchina Di intorno al futuro Uguale Allora Poi vorrei comprare Tante cose Eh poi raga Tante cose Dovremmo fare Tante cose Dovremmo fare qua Allora fammi vedere Un attimo la mappa Ok Va Ricarichiamo anche La tanica Intanto costa un dollaro Al litro Diciamo che è molto Ma è tanto caro Però Tra un po' si spezza Il tubo della pistola Quando sta Ok Ok Eh E mo' come lo prendo Ok Eh Strategie Strategie Ok raga Rimettiamo questa qua Questa la possiamo Ma vedete Questa non Non mi rientra Guarda Tac A posto ragazzi Abbiamo fatto il piede Anche al metal Non se li via Però Stavamo qui Perché Che fa Giù butti un litro Cioè Quindi abbiamo Ricaricato anche Così almeno possiamo Lavorare In Santa pace Tanto qua Occhio Perché se ci ribaltiamo È finita È finita proprio Però dai Abbiamo tutto Siamo tutti vicini Il nostro ranch Dovrebbe stare Oh mi perdo sempre L'ingresso Nel nostro ranch Ah no qua qua Dove sta la P Di Palermo Cioè noi abbiamo Il parcheggio Proprio avanti L'ingresso di casa Bellissimo Poi raga Guarda quanti alberi Abbiamo da abbattere Io qua comunque Vorrei fare una mezza Di pulita No ristrutturo Lo togliamo Ci facciamo anche Un'altra cosa Sarebbe una cosa Spettacolare Allora Intanto la tannica Di benzina Io me la lascerei Qui Che tanto Tanto Ci servirà Vai Cominci a fare Gli assi di legno E va ragazzi Lavora Sono già le sette Quindi questo Tra poco Il suo giovane ragazzo Si va Anzi Si andrà a dormire Ragazzi Quindi Ficiamo estremamente veloce Non so se ce la facciamo A tagliar tutti Allora Due già avevamo messi Eh Ne abbiamo fa un bel po' Dai Ok Andiamo Non si vede niente Però è bellissimo Allora Di notte Il nostro ranch Di notte Che ci abbiamo lavorato Poco di notte In effetti Eh Abbiamo sempre lavorato Allora Dai Sei assi di legno Abbiamo fatto Dai Sei assi di legno E poi andiamo a vedere Per la nostra Per ricaricare l'acqua Allora Dobbiamo spegnere anche La sega circolata Che ha consumato Un pozzo e mezzo Di benzina Cioè Ok Allora Sei assi di legno Quindi uno Due Tre Quattro Cinque Sei Ok Sei assi di legno E poi Quelli che rimangono là Utilizzeremo Per continuare La costruzione Del work in progress Della stalla Insomma Allora Perfetto Allora Allora Andiamo A prendere Andiamo a prendere Io tanto Mi sa che ce l'avevo Qua per i maiali Ah infatti Sì Andiamo a prendere Questo secchio E poi ragazzi Ne dobbiamo comprare Di questi secchi Ne dovremmo comprare A meno altre 3-4 Perché ci serviranno Per ogni A parte che poi Voglio mettere il pozzo Dobbiamo costruire il pozzo Ragazzi Abbiamo l'acqua sempre Ma che L'acqua verde L'acqua verde Cazzo di acqua è Sembra l'acqua lete Le bottiglie verdi Che cazzo è Allora Ricarichiamo un attimo La cisterna Qua l'acqua ce l'hanno Pure qua La verde Vabbè Sarà forse un Sarà un Forse la luna Con le sue Che ne so Siccome c'è la luna C'è la luna Cazzata Vabbè Forse sarà un riflesso Di la notte Che cazzo ne so Vabbè raga Mettiamo lì due secchi D'acqua Il cavallo Si è addormentato Meno male Il cavallo si è addormentato Vabbè Mettiamo lì anche Un altro secchio D'acqua Ok raga A meno l'acqua ce l'ha E c'ha anche a mangiare Poi vedremo Se ci va Ma penso che ci andrà Ragazzi Penso che ci andrà Sono fatto già le nove Questo ragazzo Già Si deve andare a dormire Sto ragazzo Ok Allora Mettilo qua Che si ricarica E Fammi entrare un attimo qua Maiali stanno a dormire Ah boh Qua non costi la luce Vabbè Ma la luce non serve Va bene Era giusto per vedere Perfetto Però non fa I maialini Non so il perché Questo ho messo Ho messo un maschio E una femmina Però Vabbè Non fa i maialini Forse li farà Li farà Allora ragazzi Torniamo a casa Si è fatta una certa Qua questo ragazzo Si è andato a dormire C'è nove e mezza Figo Questo ragazzo muore Se non va a dormire Ok Chiudiamo la porta E si va a dormire Quindi si fa anche una piccola salvatina E niente ragazzi Io direi che per questo episodio È tutto Prima di salutarci Facciamo Una salvatina Ragazzi Detto questo Siamo tornati anche con Range Simulator Avete visto quante cose Quante cose Stiamo facendo Dobbiamo continuare a fare Abbiamo in work in progress la stalla Ma abbiamo anche costruito la mangiatoia E la E la beveratoria Per il cavallo Vediamo un po' se lo suffrisce Speriamo di sì Se no ragazzi Non lo so Poi vedremo forse Nel quaderno dei progetti Se c'è sfuggito O mi è sfuggito qualcosa Se voi ne sapete di più ragazzi Sotto nei commenti Ditemi anche i vostri consigli Se ci giocate anche voi A Range Simulator Ragazzi Grazie mille Siete con me Spero che questo video vi sia piaciuto Mettiamo un pollicione in su Condividete il video ragazzi Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdervi Mai nulla di questa serie O di altre serie Che vi stanno piacendo Ma soprattutto Live di GTA Ragazzi Detto questo In descrizione Tutti i link sono gratuiti Quindi non vi costa nulla Fare clic Ragazzi Noi ci becchiamo Nei prossimi video O live Qui sul mio canale youtube O sul tubo viola Che troverete sempre Sotto in descrizione Vi ricordo ragazzi La scaletta sul mio discord O sul mio sito ufficiale Xfaxx.it Per non perdervi Mai nulla Sia di video Ma soprattutto delle live Ragazzi Domani Mercoledì Saremo in live Qui sul mio canale youtube Quindi non mancate di seguirmi Detto questo ragazzi Ci becchiamo Nei prossimi video in live Ciao a tutti ragazzi